Grazie, sei verizzato un 10 in pagella. Sì, ho fatto il mio lavoro nel model. Questo anno non è stato un anno molto fortunato a causa del giro della Tendinite, quando mi sono flatturato. È stato di alti e bassi, però sono rientrato bene, è stato bene. Oggi abbiamo dimostrato di lavorare nella squadra. Era una gara impegnativa e la pioggia l'ha resa anche più difficile, però ci siamo ben comportati, abbiamo finito il massimo e abbiamo corso già con la testa per i prossimi impegni. I prossimi impegni che sono? Sicuramente lui farà il Lombardia, io avrò la Milano-Torino che vi mandi per l'appuntamento e poi vedremo la stessa. Ok, grazie.